Ciao, oggi ti porto con me a un appuntamento con Luca Mercalli, immagino che lo conosci perché l'hai sicuramente già visto in tv. Sì, è tornato per trovarci per parlare di clima e cambiamenti climatici, il nostro Luca Mercalli! Buonasera Luca Mercalli, ben ritrovato, un grande piacere, eccolo qua a ritrovarlo. Allora, Luca Mercalli, che è qui per parlarci di un argomento che ci terrà compagnia nel corso dell'anno, spero numerose volte, è stato anche... Luca Mercalli mi ha aiutato a raccogliere dei dati, ovvero i dati meteo di tutti i capoluoghi di provincia in Italia per utilizzarli nel mio simulatore specializzato per le pompe di calore, il simulatore professionale. Cos'è il simulatore? Se non l'hai già visto in alcuni video, è uno strumento, un software, che ho realizzato insieme a un team di informatici e sulla base delle esperienze vissute negli ultimi anni, che permette di determinare qual è la migliore pompa di calore per il tuo caso specifico. Quindi va a dimensionare la pompa di calore, verifica se i radiatori funzionano anche con la pompa di calore, quindi se hai una casa a radiatori si fa la simulazione e soprattutto va a definire quanto consumerà la pompa di calore mese per mese ogni anno. E tutto questo è possibile perché andiamo a recuperare i dati meteo di ogni specifica località. Con i dati meteo è possibile avere appunto la temperatura esterna ora per ora per ogni giorno dell'anno. Poi, conoscendo anche le temperature di lavoro in casa, sappiamo la temperatura dimandata all'impianto e quindi determiniamo il COP della pompa di calore e di conseguenza il consumo elettrico. Il simulatore è uno strumento indispensabile per applicare il protocollo, cioè quella sequenza di operazioni per togliere il gas dalle case e trasformare le vostre abitazioni in edifici completamente elettrici. Bene, dai, adesso ti porto all'appuntamento con Luca Mercalli. Eccoci, sono con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, nonché volto noto della televisione per le sue campagne di sensibilizzazione sul cambiamento climatico. E sono qui perché volevo raccontarti la storia che ci ha visto uniti ultimamente per la raccolta dei dati meteo utili per il software di simulazione sulle pompe di calore che ho realizzato. Era per me fondamentale avere dei dati meteo attendibili dei vari capoluoghi di provincia italiani per poter simulare il consumo delle pompe di calore, perché la pompa di calore consuma diversamente a seconda della temperatura esterna. Davo per scontato che i dati meteo fossero facilmente reperibili, che fossero dati a disposizione di tutti e che ci fossero. Ma in realtà ho scoperto che non è per niente così. Non è così perché in Italia soffriamo di una drammatica frammentazione degli enti preposti alle misure meteorologiche. Noi abbiamo molti servizi in Italia che si occupano di meteorologia, sia statali sia regionali. I servizi statali tradizionalmente l'aeronautica militare che gestisce la rete primaria rappresentativa dell'Italia all'estero in sede di organizzazione meteorologica mondiale, ma prevalentemente si tratta di stazioni meteorologiche presso gli aeroporti. E già questo per un lavoro che riguarda soprattutto l'urbanistica è un problema di difficile soluzione, perché noi andiamo ad avere un dato in una zona praticamente rurale, l'aeroporto non ha costruzioni vicine, mentre a noi serve avere i dati nel centro delle città. L'altro elemento sono le differenti proprietà dei dati. Allora abbiamo quindi enti statali, enti regionali, che anche all'interno delle regioni appartengono a enti diversi. Per esempio al nord Italia in genere alle ARPA, alle agenzie regionali di protezione ambientale, ma non tutte le regioni hanno la stessa modalità anche di osservazione del dato. Quindi il confine regionale è veramente un limite anche nel formato con cui i dati sono rilevati. Qualcuno rileva ogni dieci minuti, qualcuno ogni ora, qualcuno mette a disposizione un certo numero di dati giornalieri. Non ci sono tutte le serie storiche per un lungo periodo, solo l'ultimo mese, solo l'ultimo anno, qualcuno li dà tutti, qualcuno li dà solo per l'ultima settimana. Insomma, un vero caos istituzionale per qualcosa che un fondo tutti noi abbiamo pagato con le tasse. Ecco, ci sono paesi al mondo dove con un solo clic si può accedere alla banca dati nazionale, e parlo di paesi come l'Australia, dove ci sono tutti i dati, tutti misurati con lo stesso criterio, alla stessa ora, con la stessa tipologia di stazione meteorologica, e con l'archivio che io dall'Italia, senza nemmeno scrivergli una parola, averli mai visti in faccia, mi posso scaricare tutto quello che succede a Sydney negli ultimi 50 anni. Qua non è così facile. E se si deve quindi costruire un database rispettabile, che geograficamente abbia un significato, bisogna affrontare una lunghissima sequenza di passaggi, tutti diversi per ogni regione, per recuperare i dati, creare un database omogeneo e un periodo comune di confronto. Ecco perché oggi in Italia avere i dati meteorologici comodi, di pronta consultazione e affidabili, soprattutto, perché bisogna sapere anche come sono stati misurati, qual è la qualità delle stazioni meteorologiche, se i numeri che sono rilevati sono credibili, o se ci sono delle stazioni, per esempio, con molti dati mancanti, oppure con dei dati sospetti. Ecco, questo lavoro impegna talora una quantità di energie e di tempo enorme, ed ecco perché non è ancora stato fatto. Si può cominciare, ovviamente, facendo una scelta, perché le stazioni meteorologiche in Italia oggi ce ne saranno circa, forse siamo tra le 5.000 e le 10.000, se sommiamo tutte quelle statali e regionali. Però è come averne soltanto poi alla fine due o trecento, quando si cerca di mettere insieme un mosaico di tipo nazionale. Ho capito. E c'è una previsione, c'è un progetto che vedrà l'omogeneità di questa cosa, oppure no? Il progetto c'è, se ne parla da tanti anni, e potrebbe emergere nel prossimo futuro con una nuova agenzia che si chiama Italia Meteo, che da tempo è già stata sancita da una legge, dovrebbe avere sede a Bologna, e dovrebbe coordinare un po' tutta la risorsa meteorologica nazionale. Però per il momento non c'è, e vedremo quanto tempo impiegherà ad essere realizzata. Nel frattempo, chiunque voglia avere una visione omogenea del clima italiano deve purtroppo varcare queste forche caudine e essere pronto a investire tantissimo tempo per riuscire a costruire una banca dati accettabile. E quindi, come sempre in Italia, arrangiarsi. Siamo un po' il paese ancora dei gran ducati. Dei gran ducati. Bene, ringrazio di questa storia in modo da rendere partecipe anche l'italiano di cosa succede anche a livello istituzionale. E con questo ti do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti voi.